Paolo Sassanelli in viaggio a sorpresa con Lino Banfi e Ron Moss. In questo film tu interpreti il figlio di Lino Banfi, come ritrovarsi dopo il medico in famiglia? Con Lino? Beh, diciamo che non ci siamo mai lasciati, questo è il punto. Aver vissuto qualcosa come 15 anni, forse qualcosa in più anche, insieme dalla mattina alla sera a Cinecittà, ritrovarsi sul set per me era normale, era diciamo logico, non c'è stato modo di conoscersi e roba del genere perché ci conosciamo da 15 anni e più, quindi è stato tutto molto facile. E in questo film quali sono delle esperienze che ti sei portato dietro? Il luogo dove abbiamo girato è bellissimo, è una masseria vicino a Martina Franca, quello è un posto magico, strepitoso. E poi lavorare insieme ai miei amici che sono Toto Onnis, Fabio, appunto Lino e poi Ron che è una nuova amicizia. Sempre questa scoperta fantastica che è Mayra, l'attrice pugliese bellissima, che secondo me racconterà qualcosa in futuro.